No, ma intanto io ringrazio, mi complimento per l'iniziativa, mi complimento con il direttore di questa magnifica sede di sfruttarla al meglio anche con iniziative di questo tipo che aiutano il nostro paese, quando si aiuta il nostro paese si aiuta anche l'Europa sia a collaborare, a costruire e a crescere. Penso che questo sia un momento particolarmente importante sotto un punto di vista in cui dobbiamo misurare e comprendere che bisogna cambiare registro, cioè il lavoro politico prima di tutto quindi tra partiti, tra maggioranza e opposizione ma anche tra forze e istituzioni deve essere di un registro diverso rispetto a quanto abbiamo visto negli ultimi anni. O c'è uno stile di collaborazione e di ognuno nei suoi ruoli naturalmente, ma uno stile di collaborazione forte che riesce a trasmettere anche il senso di unità in cui il paese si colloca per cercare di dare risposte o noi resteremo sempre più marginali perché qui al tavolo di presidenza e tra i vostri ospiti ci sono persone che lo possono raccontare con la loro esperienza di vita e con le esperienze professionali e aziendali. L'Europa di per sé rischia di essere marginale in uno sviluppo economico che vede tassi di crescita da altre parti molto maggiori, vede crescita demografica negli altri continenti molto maggiori e quindi possibilità di investimenti, possibilità di interesse, di essere luoghi aggregativi per la politica e per l'economia. Quindi o si fa sistema e quindi si è un paese competitivo in un'Europa competitiva oppure noi diventeremo sempre più marginali. Penso al futuro dei miei nipoti e dei miei figli. In questo ci sono grandi opportunità da cogliere, da saper cogliere. Le prime sono quelle legate nella contingenza nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, al PNRR che è una sfida in cui io questo dibattito di sfida tra governo, maggioranza, opposizione non riesco a vederlo perché c'è una continuità nei governi che si sono succeduti nelle scelte di chiedere il PNRR, di chiederlo molto ampio, di scegliere le finalità su cui investire a luce poi delle difficoltà di questo sistema paese su cui qualsiasi bando trova, che poi bisogna andare nel concreto dell'ultimo livello di spesa, qualsiasi bando trova le opposizioni di 300 uffici e di 50 pagine di istruzioni che non sono frutto di una, diciamo, cattiva gestione politica ma sono frutto di un'abitudine italiana e un po' anche europea di burocratizzare tutto nei confronti di una semplificazione che invece dovrebbe essere la chiave per affrontare ogni cosa. Io penso, provo a pensare a una grande democrazia come l'India che veniva citata prima, se dovesse affrontare la gestione di un miliardo e 300 mila persone con il modello tra virgolette nostrano probabilmente avrebbe qualche difficoltà in più. Penso che noi dobbiamo concentrarci sulla capacità di spesa e la capacità di spesa utile, perché il tema non è se chiedere tutti i soldi, non chiedergli della corte dei conti, è far sì che questi 250 miliardi siano utili allo sviluppo, nessun imprenditore chiede a prestito risorse per fare investimenti fine a se stessi. Qualsiasi imprenditore si chiede questi investimenti che facciamo sono finalizzati a una crescita, a uno sviluppo e io penso che su questo noi dobbiamo dare le risposte. Oggi questo tema mi sembra non sia il tema centrale, che io invece penso che debba essere centrale e non è centrale neanche nella prospettiva con cui l'Europa l'ha impostato. Io penso che noi dobbiamo dirci e chiederci questo, perché ci sarà qualcuno che paga questi mutui, che siano mutui europei o che siano mutui italiani, sempre mutui sono, e a fronte di questi mutui ci vuole che ci sia una ricaduta di carattere economico diretto. Ultima questione, più legata ai temi della sicurezza, che è una frontiera gigantesca e che è una frontiera che riguarda, diciamo, il quinto luogo dove si fa la guerra oggi, il cyberspazio, che è un luogo dove si combatte in maniera molto molto intensa e anche le contingenze purtroppo che vediamo in Ucraina non hanno tenuto fuori, anzi, lo hanno fatto il primo luogo dove si è iniziato a combattere. E lì c'è una guerra asimmetrica, perché ci sono paesi che consentono qualsiasi cosa, mentre nel nostro paese qualsiasi cosa non è consentito, fortunatamente. E quindi abbiamo una guerra asimmetrica perché ci possiamo difendere non andiamo mai all'attacco, come è fatto per una democrazia. Questo vuol dire che su questo noi dobbiamo investire moltissimo. Dobbiamo investire in infrastrutture, dobbiamo saper investire in infrastrutture, dobbiamo saper investire in formazione e in conoscenza di nuove persone che devono andare a lavorare in questo settore che oggi non ci sono. In qualsiasi ambito, nel pubblico, nel privato, perfino nei servizi e nell'agenzia sulla cyber, voi troverete che vi dicono che non abbiamo le professionalità che ci servono in questo settore. Anche con paghe importanti c'è la lotta per portarsi via le persone. Questo vuol dire che il nostro paese è chiamato a investire in formazione, in questo settore e in altri settori, in questo settore in particolare. E anche su questo io penso che noi dovremmo essere di stimolo alla comunità, all'Unione Europea per decidere che nel nostro, come in Cina oggi ci sono un milione di giovani che si formano a diventare ingegneri, noi dovremmo avere la cognizione e la capacità di dire dov'è il nostro, dico mezzo milione di giovani in Europa che si prepara a diventare ingegneri. Dico mezzo perché la popolazione sta lì. dove sono? Non ci sono. Ecco, allora su questo noi dobbiamo evidentemente fare uno sforzo di fantasia ma soprattutto fare uno sforzo di concretezza nell'ambito della formazione. Poi ho sentito cose molto interessanti anche dette dalla Ministra Santanchè su cui dico e lo ribadito e chiudo su questo, sull'ambito del turismo io penso che sia uno degli asset principali dell'Italia, non è che siamo diciamo Colosseo, Pizza e poco altro, ma abbiamo anche per fortuna il food, il vino, l'accoglienza e il 45% dei beni unesco al mondo. Quindi se non trasformiamo questi asset in ricchezza, in turismo, in crescita vuol dire che stiamo mettendo diciamo sotto la sabbia uno degli asset più importanti che abbiamo.